salve a tutti benvenuti in questo nuovo angolo di pasticceria oggi faremo una bellissima ricetta per il famigerato pandoro amato dagli adulti anche dai più piccini a chi non piace una bellissima fetta di pandoro morbido soffice profumato con il nostro magico lievito madre lievito madre che abbiamo preparato la volta precedente lo andiamo a utilizzare in questo magico pandoro adesso è imbustato dovrà riposare 48 ore 48 ore no io me la mangio 48 ore no io me la mangio sigla 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 grazie a tutti allora abbiamo lievito madre 80 grammi oppure il panetto di lievito di birra con acqua e farina 320 di farina tecnica per panettone 90 grammi di zucchero semolato 110 grammi di burro di buona qualità 260 grammi di uova intere per il secondo impasto abbiamo tutto il primo impasto più 55 grammi di farina sempre tecnica per panettone 5 grammi di sale 4 grammi di malto 55 grammi di tuorlo d'uovo e 20 grammi di panna fresca per l'emulsione abbiamo 120 grammi di burro di buona qualità 55 grammi di zucchero semolato 25 grammi di burro di cacao oppure cioccolato bianco sempre grattugiato 10 grammi di miele e aroma vaniglia per prima cosa a primo rinfresco del levito madre andiamo a fare il bagnetto come di consuetudine ecco andiamo a strizzare il nostro levito madre fandolo stare in acqua per sette otto minuti andiamo a strizzare andiamo a pesare pari peso farina e il levito che abbiamo ottenuto vi ricordo che la ricetta del levito madre partendo da acqua e farina la potete trovare nel mio canale adesso uscirà una schermata in alto a destra che vi darà il link per andare a seguire il levito madre da acqua e farina come vi farò vedere io nel mio video nel mio canale adesso vado ad incorporare a mano il levito madre con la farina quello potete fare benissimamente in planetaria io ho voluto farlo sul tavolo per sentire già la levitazione se andava a buon fine si sente già quando si va a lavorare con le mani in planetaria a volte viene un po troppo stressato ecco vado a dare delle piccole pieghe vado a rotolare in questo caso io faccio un panetto un po più grande che poi dopo vado a prelevare gli 80 grammi per questa ricetta questa è la prima levitazione dopo fatto il bagnetto eccolo levitato e andiamo a ripetere dopo circa quattro ore se non tre ore e mezza pure andiamo a ripetere questa operazione per ben tre volte dopo tre volte otterremo il nostro levito madre forte per andare a seguire la ricetta andiamo a mettere in planetaria la farina lo zucchero le uova mettiamo per adesso solo due uova inizialmente inizialmente mettiamo il gancio impastatore poi più in là andiamo a mettere la foglia per velocizzare senza surriscardare l'impasto ecco azionando la planetaria modalità minimo della velocità a questo punto azioniamo un po la seconda marcia per far assorbire la farina tutti gli ingredienti che abbiamo messo in questo caso la metà dello zucchero e due uova andiamo a mettere un altro uovo cade un altro poco in più di nuovo sarà un uovo e mezzo in questo caso ecco sempre con questa velocità vediamo che si inizia a compattare il contenuto vedete man mano dobbiamo fare molta attenzione che non sale di temperatura poi con l'avanzare del video vi faccio vedere come monitorare la temperatura con un termometro a sonda ecco il nostro lievitino abbiamo prelevato solo gli 80 grammi che ci servivano da quel da quel panetto e l'abbiamo messo a lievitare ecco il nostro lievito è pronto e lo andiamo inserire in questo caso ho messo tutto insieme però è più corretto mettere a un pezzettino per volta poi andiamo inserire un altro uovo ancora per far amalgamare anche il nostro lievito madre ecco inizia a sciogliersi all'interno dell'impasto ecco velocizziamo un po' l'impasto mettiamo la marcia successiva vediamo che inizia già a staccarsi dalle pareti andiamo a monitorare sempre la temperatura dell'impasto sempre non molto caldo deve essere piuttosto freddo e mettiamo la foglia per velocizzare e dare una mano all'impastatrice perché è un impasto molto poco cioè questo impasto alla fine di tutta l'operazione arriverà a un chilo abbiamo visto abbiamo messo la foglia ecco man mano inizia a salire anche l'impasto vediamo che con la foglia rimane l'impasto attaccato vicino alla foglia andiamo a mettere il restante zucchero più o meno la metà che c'è rimasta dal dal primo inserimento e le restanti uova in questo caso sono rimasti un paio di tuorli perché l'albume è caduto precedentemente e continuiamo ad impastare dopo che si sono assorbite le uova fermiamo la macchina e vediamo a quanti gradi sta in questo caso sta di 4,2 mincola 3 va benissimo l'importante è che non superi 26 gradi altrimenti dobbiamo mettere tutto l'impasto nel freezer aspettare 10 minuti che si raffredda e ricominciamo a eseguire l'impasto adesso il nostro impasto sta iniziando a prendere corpo aumentiamo un po' la velocità sempre fare attenzione che non sale troppo di temperatura altrimenti se arriva a 28-29 gradi 30 gradi purtroppo è tutto da buttare perché non avremo più un panentone o un pan d'oro ma avremo una mollica rosa che non ha niente a che fare con questi grandi lievitati che siano di una morbidezza unica adesso prepariamo anche il burro a temperatura ambiente e lo mettiamo a pezzettini vediamo che man mano si assorbe perché è a temperatura ambiente dobbiamo mettere a pezzettini in modo tale da agevolare l'assorbimento ecco andiamo a mettere gli ultimi pezzi del primo impasto ecco l'impasto inizia a staccarsi completamente delle pareti gli ultimi pezzi ecco incorporato gli ultimi pezzi di burro vediamo l'impasto è salito totalmente vicino al gancio in questo caso vicino alla frusta K andiamo a misurare la temperatura non deve superare mai i 27-28 gradi come vi dicevo se supera questa temperatura o se arriva a 26-27 gradi dobbiamo mettere l'impasto di nuovo in frigorifero nel freezer aspettare 5 minuti e poi andiamo a rimpastare nel nostro caso non c'è stato bisogno aspettiamo che l'impasto si asciughi di tanto in tanto possiamo dare anche una pulita lateralmente in fondo alla planetaria in modo tale da agevolare l'impasto ecco andiamo a vedere l'elasticità della maglia glutinica ecco come vedete io con un raschetto o tarocco cartoncino come lo vogliamo chiamare ho pulito il fondo della planetaria in modo tale da agevolare l'impasto ad essere più asciutto ecco vediamo la maglia glutinica molto elastica e molto fine quasi trasparente l'ho messo in un contenitore di plastica alto così posso monitorare la levitazione leviterà il tripolo del suo volume cioè una parte di impasto e altre due parti andranno come levitazione quindi otterremo il tripolo dell'impasto che abbiamo fatto mentre aspettiamo la prima levitazione dell'impasto andiamo a grattugiare il cioccolato bianco o se avete burro di cacao inseriamo nel composto il burro morbido la vaniglia liquida il miele e montiamo il tutto con o con la planetaria in questo caso ho usato un frullino essendo un composto molto piccolo ho utilizzato un contenitore di plastica in modo tale da farlo montare bene come vedete portiamo tutto a una modalità tipo per farvi capire crema al burro lo facciamo il giorno prima nel caso del levito madre così il giorno dopo lo mettiamo in frigorifero il giorno dopo lo troviamo ben freddo per inserirlo nel secondo impasto se lo facciamo con levito di birra lo facciamo mentre sta levitando il primo impasto facciamo la stessa cosa ecco come vedete il burro è diventato a crema e tutti gli ingredienti burro di cacao cioccolato miele e tutto e vaniglia liquida andiamo a pulire il recipiente e lo copriamo con pellicola e lo mettiamo in frigorifero ho usato la vaniglia liquida nel mio caso o se usate la bacca di vaniglia mettete come già sapete tutti i semini all'interno di questo composto e montate insieme a tutto il composto che vi ho elencato negli ingredienti adesso andiamo a mettere in frigorifero ecco nel mio caso con levitomadre dopo 12 ore abbiamo ottenuto questo risultato beh una bella soddisfazione con levitomadre che abbiamo creato circa 3 settimane quasi un mese fa ha dato questo risultato dopo 12 ore se lo fate con levitotipira come vi dicevo ci metterà sicuramente 5-6 ore per lievitare andiamo a mettere tutto il primo impasto nella planetaria con tutta la farina e iniziamo a marcia bassa ad incorporare la farina a primo impasto ecco iniziamo anche ad estrarre dal frigorifero il nostro la nostra emulsione di zucchero burro di cacao burro miele e vaniglia liquida vedete il primo impasto con la farina inizia a amalgamarsi diventa un impasto ben solido a questo punto inseriamo un paio di tuorli per volta vediamo vediamo l'impasto come è ben elastico nel secondo impasto di solito non c'è bisogno di mettere la foglia perché è già ben incordato quindi eppure come quantità è di più quindi il gancio va sicuramente bene se non vedete che l'impasto non sale usate benissimamente la foglia e monitorate sempre se vedete che si surriscalda monitorate sempre con termometro l'impasto che non arrivi oltre i 26 gradi ecco mettiamo ancora i tuorli in più riprese ecco 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 in questo caso mettiamo i 4 grammi di malto, lo vado ad inserire, essendo una piccolissima quantità faccio attenzione che non esca fuori durante l'impasto. Come vediamo l'impasto è ben elastico, guardate che spettacolo, iniziamo ad incorporare l'emulsione e aromi, tutto insieme che già abbiamo preparato il giorno precedente. Andiamo ad incorporare l'emulsione, a questo punto possiamo inserire anche il sale, guardate sulla sinistra, inseriamo il sale e man mano mettiamo a pezzettini sempre il resto dell'emulsione da noi creata. In questo punto inseriamo i 20 grammi anche di panna fresca, man mano vedete sto inserendo a pezzettini sempre tutto il resto della parte aromatica e l'emulsione, tutto insieme. Vedete che spettacolo, l'impasto ha raggiunto un'incordatura perfetta, molto compatto, vado a misurare sempre la temperatura, anche se già vedevo che era ben freddo. Siamo sui 24 gradi e va benissimo, ci possiamo anche permettere di far finire di incordare l'impasto. Se vedete qualche pezzettino di burro e emulsione, in questo caso che non si è amalgamata bene, scioglietela con le mani che sicuramente si scioglierà. E poi ecco vediamo la maglia glutinica che spettacolo, una maglia fine e elasticissima, guardate, quando avete ottenuto questo impasto a questa gradazione sicuramente vi è riuscito alla perfezione. Adesso facciamo riposare l'impasto per 30 minuti, io lo lascio in planetaria coperto dal coperchio di plastica della casa, ne lo facciamo riposare per 30 minuti. Ecco dopo 30 minuti vado a togliere il coperchio, il coperchio centralmente era bucato, era chiuso dalla macchina, non ci fate caso. Voi potete mettere anche in un contenitore, dove vedete voi, io l'ho rimasto nella planetaria. Ecco qua, andiamo a mettere il composto sul tavolo. Gli diamo una prima pirlatura. Ecco. Più stesura che pirlatura. E aspettiamo un quarto d'ora. Ecco, dopo 15 minuti andiamo a dare una pirlatura. Andiamo a portare l'impasto sempre verso il centro. Vediamo che inizia ad essere più omogeneo. Che inizia la prima piccolissima livitazione. Ecco qua. A questo punto lo lasciamo altri 10 minuti. Dopo 10 minuti andiamo a pesare l'impasto. Diamo una pirlata. Mettiamo un po' d'olio sopra alla campana della bilancia. Andiamo a pesare. In questo caso a me mi servono 750 grammi perché ho uno stampo da pandoro da 750 grammi. Il restante farò un panettoncino da parte. Andiamo a imburrare il nostro stampo del pandoro. Sempre con il burro. Pur essendo uno stampo antiaderente vado lo stesso ad imburrare. Non si può mai sapere. Siamo sicuri che il parandoro fuoriuscirà dallo stampo. Ecco vedete imburrato alla perfezione. Diamo l'ultima pirlata. Quella fondamentale. Non andiamo a rompere tutta la maglia di levitazione. Ma andiamo ad accarezzarlo. Andiamo a togliere da sotto tutto l'impasto superfluo che sta sul tavolo. Con un tarocco cartoncino. Come lo vogliamo chiamare. Ogni città lo chiamo in un modo. Noi a Napoli lo chiamiamo o cartoncino. E mettiamo l'impasto nello stampo. Andiamo a coprire con pellicola trasparente. E lo metteremo in un forno spento a levitare. Fino a quando raggiungerà il bordo dello stampo che poi andremo a infornare. Ecco l'impasto ha raggiunto il bordo dello stampo. A un dito diciamo dallo stampo. Iniziamo ad accendere il forno a 180 gradi. Una volta aver riscaldato il forno vedete che è salito un altro poco. Inforniamo e a questo punto dopo circa 20 minuti e mezz'ora andiamo a mettere un foglio di carta argentata e misuriamo la temperatura dopo un'ora scarsa 55 minuti. Il nostro pandoro a 93 gradi e mezzo massimo 94 gradi è pronto. Vedete questo è quello da 750 grammi. Spettacolo. Ecco dopo due ore di raffreddamento lo andiamo a sformare. Guardate che spettacolo. Il nostro magico pandoro dovrà stare almeno altre quattro ore prima di imbustarlo. Ecco se lo vogliamo imbustare abbiamo bisogno di alcol a 96 gradi, una busta per incartare i panettoni e andiamo a mettere il pandoro nella busta. Ecco prima di giudere la busta andremo a mettere dell'alcol a 96 gradi. E' alcol quello là tipico per le conserve sotto spirito per evitare in questo caso le muffe perché lo andiamo a aprire dopo 48 ore che il panettone, pandoro, panettone e grandi levitati devono stare almeno 48 ore per sentire tutti i loro aromi e i loro ingredienti che spiggiorano tutti i sapori. Ecco vado a chiudere con chiusino classico, quello per panettoni. Ci vediamo tra 48 ore. Ecco dopo 48 ore abbiamo aperto il nostro magico pandoro, non ce l'abbiamo fatta più dopo 48 ore, lunghe 48 ore, sono stati 48 giorni. I miei figli erano lo spasimo. Andiamo a glassare con zucchero a vero vanigliato e tagliamo questa magica fetta per vedere che spettacolo. Ecco guardate che spettacolo, una mollica stupenda. Guardate che morbidezza, guardate che morbidezza la mollica, un interno molto ben areato, guardate che bella alveolatura interna, una mollica bellissima, buonissima da gustare. Ragazzi veramente è uno spettacolo, fatevelo anche voi. Mi raccomando quando eseguite la ricetta per fare sia questo pandoro che quando andremo a fare panettone e altre ricette a Livito Madre, l'importante è fare i tre rinfreschi giornalieri prima di dare il nostro Livito Madre. Ragazzi mi raccomando mettete un bellissimo like, iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram. Mi raccomando guardate sempre le famose schede bianche oppure a chi compare solamente l'icona con la scritta I, informazione. Andate a cliccare sopra, ci saranno i miei nuovi video delle playlist da mie create. Ragazzi ci vediamo alla prossima ricetta, un bacio a tutti, ciao!